Ho pensato, tra un mese è la festa della liberazione che cade di martedì e chi se lo può permettere potrebbe attaccare il sabato e fare da sabato a martedì di ferie, beh risulta una figata. E quindi perché non risparmiare sul soggiorno? Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio darvi alcuni consigli per risparmiare su Booking. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Mi sono detto perché non fare un video su come risparmiare tramite Booking durante la prenotazione di un hotel, camera o qualsiasi altra cosa. Perché del resto io lo faccio sempre quando vado nei miei viaggi e cerco le soluzioni più economiche, sì, tra Airbnb, Booking e tante altre piattaforme, oltre anche allo scrocco di casa ad amici. In questi casi ho sempre cercato il prezzo migliore, in concomitanza anche al luogo migliore, perché reputo che sia inutile se voglio visitare il centro di una città, cercare una casa in periferia e poi farsi tutti i giorni le ore avanti e indietro con i mezzi pubblici, spendendo oltretutto non poco. E quindi alla fine se costa un po' di più in centro, ma è più vantaggioso, perché prenderla in periferia meno? E durante le mie ricerche ho adottato alcune tecniche che voglio far conoscere anche a voi. In tutto sono 8. 4 molto base, sicuramente alcuni di voi le avranno già usate o tenute in considerazione in passato. Altre 4 scommetto che nessuno di voi le ha mai sentite o le ha mai utilizzate. La prima cosa che vi suggerisco di fare è quella di iscrivervi alla piattaforma, che potrà sembrare un consiglio super banale, ma iscrivendosi a Booking ci sarà la possibilità di salire come posizionamento nella sezione Genius, praticamente una sorta di programma fedeltà nel quale vi potrete aggiudicare un sacco di sconti ed anche alcuni plus molto interessanti. Oltre a questa sezione Genius però, iscrivendovi, Booking vi manderà anche delle email mirate, con degli sconti esclusivi solo per voi, inerenti a quello che state cercando. La seconda cosa che vi suggerisco di fare è l'iscrizione a Premi e Wallet, che vi permetterà di guadagnare dei premi grazie alle prenotazioni con determinate strutture. Questi premi saranno rilasciati dopo circa 30 giorni dal checkout, massimo 60, e si potranno utilizzare per pagare altri soggiorni, attrazioni o qualsiasi altra cosa su Booking. Essendo gratis ed essendo una cosa messa in campo dalla piattaforma, io la farei. La terza cosa che io faccio sempre e consiglio sempre di fare, ma capisco che possa non essere per tutti, è la flessibilità durante la ricerca del soggiorno. Quando vorrete effettuare una prenotazione sulla piattaforma, ci sarà proprio durante la selezione dei giorni di prenotazione la possibilità di specificare una determinata flessibilità da parte di chi prenota. Questo ovviamente darà più possibilità di scelta. Un albergo potrebbe essere più economico magari un paio di giorni prima e uno dopo rispetto alle date che avevamo in mente, però capisco, ripeto, che possa non essere per tutti. Se si ha la possibilità di fare una vacanza solo determinati giorni, ovviamente non si potrà slittare oltre quelli. La quarta cosa che faccio sempre, oltre ad impostare la ricerca dal prezzo più basso, è quella di utilizzare il filtro per selezionare tutte le possibili offerte, opzione messa in campo proprio dalla piattaforma e da quel punto si potrà variare anche la visualizzazione dei soggiorni possibili, poiché rimarranno sempre selezionati quelli in offerta. Questa è una cosa che quasi nessuno fa, però la ritengo molto interessante, del resto la piattaforma fa già il lavoro che dovremmo fare noi. Questi erano quattro trucchi che sicuramente qualcuno di voi conoscerà già e avrete magari utilizzato proprio durante la ricerca di un soggiorno su Booking, ma adesso arriva il bello. Quattro cose che io faccio sempre, mi fanno risparmiare un sacco e non penso che molti di voi conoscano. Il primo trucco per risparmiare che uso è fare la prenotazione da mobile. Potrà sembrarvi assurdo, ma la stessa camera con le stesse condizioni, stesso luogo, stesse date, da computer a un prezzo, da mobile può averne un altro. Questo perché da mobile ci sono determinati sconti che su PC non appaiano. Io per comodità faccio la ricerca da computer e poi la prenotazione la provo a fare da mobile per vedere se effettivamente il prezzo cambia oppure no. La seconda tecnica che utilizzo, e ad Amsterdam mi ha salvato, è quella di selezionare le strutture con la cancellazione gratuita. Questo in fase di prenotazione, abbinato alla possibilità di prenotare senza pagamento anticipato e volendo facendo la combo anche con lo sconto Genius, è veramente il top. Io in genere prenoto con largo, larghissimo anticipo, ma l'anno scorso quando sono stato al TwitchCon di Amsterdam mi sono ritrovato a dover far tutto di corsa. Quindi ho trovato una struttura, in effetti, che non era proprio vicino al centro, ma il prezzo era conveniente e l'ho presa immediatamente. C'era la cancellazione gratuita fino a, mi sembra, un paio di giorni prima della partenza. Ho analizzato tutti i giorni le nuove strutture che uscivano fino a quando se ne è liberata un'altra che ho immediatamente preso cancellando l'altra che tanto era gratuita la cancellazione. Quindi la prima non mi è costata niente, la seconda l'ho prenotata perché era più in centro e aveva un prezzo migliore e ho risparmiato un sacco di tempo in trasporti e va bene, ma anche nel prezzo della camera. Il terzo consiglio che vi do è quello di guardare le box che permettono di prenotare in determinate strutture ad un prezzo fisso. Infatti ci sono tantissime aziende che danno le classiche box con dentro tanti pacchetti, prenotazione di vacanza, volo oppure hotel, soggiorno di qua, di là che si regalano Natale, Compleanno, San Valentino, eccetera, eccetera. Oltretutto box che spesso e volentieri su tantissimi siti si trovano a prezzi scontati rispetto a quello di listino. Ecco, prenotando quelle box, quindi prendendo quelle box, vedendo la struttura di esempio e cercando le stesse camere ho notato che spesso e volentieri prenotare una camera con la box costa meno rispetto a prenotare in quell'hotel una camera a prezzo pieno e quindi conviene, soprattutto se si riescono a prendere queste box in sconto che non andranno in regalo ma si useranno per se stessi. Il quarto trucco che ho già utilizzato e funziona, ma non sempre, quindi attenzione, potrebbe essere un po' controproducente perché va contro tutto quello che ho detto fino ad ora, ma se funziona il risparmio potrebbe essere notevole, ovvero prenotare l'hotel o comunque la struttura direttamente sul sito della stessa oppure contattando per telefono. Quando cercherete qualsiasi hotel su Booking avrete tutte le informazioni come il nome dell'hotel, la via e ovviamente la città. Ricercando poi questa struttura su Google avrete la possibilità, oltre a contattare quest'ultima tramite telefono, di comparare i prezzi su altri siti oppure vedere se l'hotel in questione è dotato di proprio sito online ed eventualmente comparare i prezzi. Come potrete ben tutti immaginare, le piattaforme non sono online per fare beneficenza, quindi prenderanno una percentuale all'hotel o a chiunque voglia mettere la propria camera in vendita su quella determinata piattaforma. Il che vuol dire ovviamente risparmio per l'hotel se la camera viene prenotata direttamente per telefono oppure sul sito proprio della struttura. Questo non sempre accade perché alle volte Booking fa degli sconti riservati, c'è proprio scritto questa parte la regala Booking, quest'altro sconto è dedicato a te per X motivo, quindi non sempre può funzionare ma se funziona il risparmio può essere notevole. Io spero di avervi messo in campo tutti i trucchetti che uso io per risparmiare su Booking ma se ne conoscete altri o se avete dubbi o domande su quello che ho appena detto lasciatemi un commento.